Terra Point offre un ambiente corallino alternato da distezze di sabbia bianca dove i detriti madeporici creano la vita ideale per questo rarissimo gambero che ama la penombra di piccoli anfatti. Il gambero arlecchino, sia per arità che per straordinaria bellezza, è fra i soggetti più ricercati dai subacquei. L'esemplare qui ripreso è piuttosto grande, circa 3 cm di lunghezza e la sua colorazione tende al blu-violaceo rispetto ad esemplari più piccoli che hanno tonalità rosacce. Grazie per la visione! Grazie a tutti!